La spada bastarda non esiste e non è mai esistita nella storia Allora, innanzitutto il termine spada bastarda non è stato ritrovato su nessuna fonte storica prima del 1984 Questo perché il primo trattato che parla di armi e che nomina il termine spada bastarda è Dungeons & Dragons Set 3 Companion Rules nella sezione appunto Nuove Armi Quindi sì, il 1984, dunque il termine spada bastarda è un mio coetaneo Inoltre questo termine non è nemmeno nominato nell'Hawkshot Tipology di World Hawkshot appunto che è quest'opera di classificazione delle spade medievali e che tutt'oggi è uno dei test di riferimento fondamentali per lo studio delle armi medievali a livello mondiale e che però secondo me ha poco senso Ma vabbè questa magari...